bella a tutti ragazzi benvenuti in un nuovo video io sono king anzi benvenuti anche nel mio canale e sono in compagnia di queen e quest'oggi andremo a unboxare un prodotto che abbiamo comprato in cartoglieria stamattina è uno dei volumi è la prima uscita di uno dei volumi diciamo della marvel spiderman la nascita di galon sono triste e dovrebbe essere dell'88 se non sbaglio ok in regime di cronelisi sono sprovvisto non so come aprirlo ok adesso dobbiamo lei non so cosa sta facendo lo tiri via lo tiri via ahia lunghi a questo vado via niente uno è questo faccia vedere l'altro cristo quest'altro e niente ragazzi per questo video è tutto iscrivetevi al canale e lasciate un like è tutto è un libro è così dico un volume bella ragazzi ma si vabbè ho capito si aspetti mi scusi e si ecco qua ragazzi se non lo vedete non è colpa mia comunque iscrivetevi non mi faccio vedere non farlo vedere no vabbè che spettacolo io stavo chiudendo il video ma quanto si può essere scemi non si vede un cazzo no vedete un posterone detto questo ragazzi spero che l'unboxing vi sia piaciuto io sono versione ma detto oggi stasera iscrivetevi al nostro canale perché il nostro canale se ve lo chiedete non è solo il mio canale il nostro canale king e queen vabbè avete capito è invisibile è una donna invisibile bella a tutti ragazzi